Buonasera, ben ritrovati. A quasi una settimana dal voto commentiamo oggi quanto avvenuto in regione Lombardia. Quanto avvenuto in provincia di Sondrio lo facciamo con il neoeletto consigliere Massimo Sertori. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Un plebiscito di voti per la Lega trascinata probabilmente dall'effetto Salvini e quindi dal risultato nazionale anche per la regione Lombardia ma anche soprattutto per la provincia di Sondrio. Sì, assolutamente sì, un risultato straordinario. La Lega in provincia di Sondrio ha preso quasi il 46%, credo che sia il massimo di tutta la storia della Lega in provincia di Sondrio, pur avendo ottenuto degli ottimi risultati anche in passato. Certamente un voto dovuto alla politica e alla linea politica tracciata da Matteo Salvini che ha portato la Lega peraltro a quasi il 18% a livello nazionale, che ha trascinato certamente anche il voto in regione. Sicuramente i cittadini della provincia di Sondrio con questo voto hanno testimoniato anche di apprezzare la politica portata avanti da chi ha governato. La regione Lombardia e giungo probabilmente anche la provincia. Il suo risultato personale è sicuramente un risultato da record perché 8809 voti sono davvero tanti. Questo ovviamente mi gratifica da un lato, dall'altra parte ovviamente mi responsabilizza ancora di più, nel senso che la fiducia che hanno dimostrato i cittadini di Valtellini e Valchiavenna nei miei confronti è evidente e molto ampia e quindi cercherò di ripagare questa fiducia col lavoro che farò da qui in avanti. Devo dire che è stata una campagna elettorale abbastanza intensa. Noi abbiamo fatto, vado a memoria, credo 20-22 incontri pubblici in vari comuni, dall'Alta Valle al Centrovalle alla Bassa Valle a Chiavenna. Ricordo un nostro competitor politico che in un'occasione mi disse ma perché fai tutti questi incontri pubblici che tanto sei il favorito e vincerai? Un po' in questa domanda, ma soprattutto nella risposta, c'è la sintesi del motivo per il quale abbiamo fatto tutti questi incontri. Non necessariamente, non solo per prendere i voti, ma proprio perché per noi politica vuol dire ascoltare il territorio, raccogliere quelle che sono le esigenze, le istanze e quindi attraverso le istituzioni e la rappresentanza istituzionale tradurre i problemi in soluzione dei problemi. Per cui questa campagna elettorale che è stata intensa ci ha fatto girare in tutta la provincia di Sondrio a ascoltare i vari problemi che ci sono, che sono peraltro differenziati. La provincia di Sondrio è una sola, ma ha delle differenze che sono importanti. I problemi che ci sono in Alta Valle sono diversi dai problemi che ci sono nel Morbenese, per intenderci. Quindi credo che la campagna elettorale sia servita anche proprio per raccogliere questi problemi e quindi poi ovviamente nel momento in cui saremo operativi cercare di trovare le soluzioni per questi problemi. Per cui è un grande momento di contatto con la gente, di ascolto, ma assolutamente base necessaria per poi risolvere i problemi che è un po' il compito e il ruolo della politica. Questo nostro modo di fare, devo dire, è molto simile al modo di fare che ha avuto anche il mio segretario di partito Matteo Salvini, che è certamente molto presente sui social e le televisioni, ma molto presente tra la gente. Io non so quanti incontri ha fatto in tutta Italia, nelle piazze, con le associazioni e quant'altro, ma noi il modo di fare politica che conosciamo è questo, stare in mezzo alla gente, cercare di capire quali sono i problemi e quindi di vedere come risolverli. La prima domanda è ovviamente con una valanga di voti di questa entità, si spalancherà la porta della giunta. Diciamo che questo, io non posso far finta che non ci sia stato un segnale fortissimo da parte dei cittadini valtellinesi e valchevennaschi, quindi è chiaro e evidente che non si è ancora parlato di giunta, ovviamente queste sono scelte che competono in primis al Presidente Attilio Fontana, che peraltro ha fatto un lavoro straordinario, perché ricordo che Attilio Fontana era conosciuto sì a Varese, dove ha fatto il sindaco per due mandati, ma certamente non aveva la popolarità che aveva il governatore uscente Roberto Maroni. Sappiamo come sono andate le cose, per cui Attilio ha dovuto farsi conoscere in due mesi veramente di campagna elettorale, per cui devo dire che ha fatto un lavoro assolutamente straordinario. Ha fatto quello che ha fatto Salvini e che ha fatto lei, andando sul territorio un po' ovunque. Sì, questo è il metodo, sembra... Tra la gente. Tra la gente, ma che credo, ripeto, è quello che la politica nel senso nobile del termine deve fare, quindi non abbiamo inventato nulla. Tra i 28 eletti in Consiglio regionale per la Lega Nord, lei è stato uno di quelli che ha preso più preferenze personali? Sì, io credo di essere stato il terzo o il quarto in tutta la Lombardia come preferenza personale. Se restiamo in ambito Lega del mio partito, io sono il secondo più votato in assoluto, il primo è il mio amico Fabio Rolfi a Brescia, che è consigliere regionale uscente, nonché ex vice sindaco di Brescia, che però a Brescia ha 245 mila voti la Lega ha preso, perché chiaramente è un bacino di elettori molto più ampio rispetto a quello che ha la Valtellina, che abbiamo sì tantissimi voti, sono 45 mila, ma che in termini assoluti sono molto meno rispetto a province che hanno una concentrazione di abitanti e quindi di elettori molto più elevata. Quindi assolutamente un risultato straordinario e di grande soddisfazione personale. La Lega ha stravinto in regione e guardando un po' i numeri, Forza Italia ha 14 consiglieri, Lega Nord ha 28, viene da pensare che qualcosa dovrà cambiare in questa coalizione, gli equilibri non saranno più gli stessi? Gli equilibri, come è giusto che sia, in politica vengono decisi dai cittadini e dagli elettori. Questo voto cosa ci dice? Questo voto dice che per quanto riguarda centrodestra a livello nazionale c'è un leader che si chiama Matteo Salvini e quindi ha oneri e onori, dovrà comunque costruire, non costruire, dovrà tenere insieme la compagina del centrodestra e dovrà in qualche modo coordinare e dettare la linea non solo della Lega che già lo fa, ma di all'intero centrodestra, ma questo ripeto l'hanno deciso i cittadini con il proprio voto, mi sembra evidente. Guardando la provincia di Sondro sarà la stessa cosa? Beh direi di sì, direi anche in questo caso, provincia di Sondro o la regione, se parla della regione è chiaro che anche lì l'espressione dei cittadini è stata chiara e evidente e Fontana avrà il compito ovviamente di formare la giunta, di dettare l'agenda, di portare avanti le politiche per le quali si è presentato ai cittadini elettori. Ecco, in attesa di conoscere i nomi della giunta che ovviamente in questo momento sono top secret in questo momento in cui noi stiamo registrando. Non sono top secret, proprio non ci sono ancora. Non ci sono ancora, anche se saranno i numeri ovviamente a dire. Certamente i numeri saranno presi in considerazione. Saranno presi in considerazione. Ecco, poi ci torniamo su questo giochino della giunta. Ma quello che intendevo dire è che gli equilibri all'interno della coalizione in provincia di Sondrio cambieranno perché ovviamente adesso la Lega Nord è in assoluto il primo partito e quindi... La Lega Nord in provincia di Sondrio è da tempo che è il primo partito. Adesso è chiaro che questo si rafforza ulteriormente, però leggo molto la situazione politica della provincia di Sondrio e la situazione politica che c'è anche a livello nazionale. Nell'ambito del centro-destra la forza politica trainante è la Lega Nord. In provincia di Sondrio lo era già prima, oggi lo è in modo maggiormente rafforzato, ma oggi lo è anche e soprattutto a livello nazionale. Per cui, ripeto, oneri ed onori. Quindi ci sarà la responsabilità di dare guida sull'agenda politica a tutti i livelli, quindi a livello nazionale, a livello regionale e ovviamente a livello provinciale. A livello provinciale, certo. A proposito del livello provinciale, in questo momento la Lega è senza segretario. Borromini qualche mese fa si è dimesso e all'epoca, per fare un po' di fanta politica, qualcuno scriveva che si dimette perché dovrà avere un ruolo in regione. Borromini si è dimesso, le ragioni per le quali si è dimesso le saprà lui e sinceramente a me personalmente non è che interessano molto. Posso dire che la Lega in provincia di Sondrio è guidata da un commissario, un caro amico, Massimiliano Romeo, che peraltro era capogruppo della Lega fino a ieri o l'altro ieri in consiglio regionale e che è stato eletto senatore della Repubblica proprio nelle ultime elezioni. Credo che Massimiliano Romeo vada avanti a fare commissario in provincia di Sondrio. Mi pare peraltro che i risultati diano ragione anche alla politica che ha portato avanti fin qui e quindi credo che verosimilmente almeno fino alle elezioni comunali di Sondrio e le prossime amministrative il commissario Romeo, anzi a questo punto il commissario senatore Romeo, resterà a fare commissario in provincia di Sondrio. Sarà una garanzia? Sicuramente persona di straordinaria qualità e l'ha dimostrato sul campo. E quindi ripeto, siccome il prossimo appuntamento elettorale importante saranno le amministrative e in particolare le amministrative relative al capoluogo di provincia, diciamo che in questa fase non abbiamo certo tempo e necessità di inoltrarci in congressi o in questioni di politica interna, ma dobbiamo essere concentrati sui risultati. Anche se, insomma, mi pare di capire, in questo momento vi è stata anche una sorta di svolta anche all'interno della Lega e quindi... Diciamo che la linea tracciata dal segretario federale Matteo Salvini, che è molto chiara e mi pare che l'hanno capita molto bene anche i cittadini italiani, è una linea che all'interno della Lega ha avuto una sua costruzione, una sua progressività e ha avuto anche una discussione, una dialettica importante all'interno della Lega. Io lo posso dire come responsabile federale degli enti locali e quindi facente parte del Consiglio federale, questa linea del segretario è stata dibattuta all'interno della Lega, ma i risultati mi pare che diano ragione nel modo totale e assoluto a Matteo Salvini, che ha avuto un'intuizione felice e l'ha portata avanti con determinazione e ripeto e ribadisco, il risultato elettorale gli dà ragione. Questo se lo decliniamo a livello provinciale è la stessa cosa, se c'è qualcuno che non condivide la linea politica di Salvini e quindi della Lega e quindi del segretario federale, che poi è la linea politica sancita e ufficializzata dal Consiglio federale, che per noi è l'organo supremo, maggiore del partito, non è un dramma, ma si può accomodare fuori dal partito e fare scelte diverse. Torniamo alla giunta regionale. Ne abbiamo già parlato e so che cosa ne pensa, però mi piace ribadirlo anche chi ci sta ascoltando, perché molti vorrebbero capire ora che cosa accadrà. Sappiamo che Maroni aveva, tra virgolette, detto per la provincia di Sondero, ci sarà un assessorato, o meglio per la regione Lombardia ci sarà un assessorato alla montagna e all'epoca quello che si prefigurava era un assessorato per Parolo. Ora che Parolo è stato eletto alla Camera e ora che lei è stato eletto in Regione, molti pensano che questo assessorato alla montagna debba aspettare a lei. In realtà è così importante che sia l'assessorato alla montagna? Ma io allora credo che la cosa importante per i cittadini valtellinesi e valchiavannaschi sia quello di riuscire a attuare delle politiche presso la regione Lombardia che determinano situazioni positive per il nostro territorio. Quindi sono molte le cose che la regione Lombardia può fare per la provincia di Sondrio, molte le ha fatte, molte altre saranno da fare. Io mi rendo conto che sono l'unico rappresentante presente nel Consiglio regionale eletto in provincia di Sondrio e quindi sono uno rispetto a 80 consiglieri totali che compongono il Consiglio regionale. Dovrà avere un peso specifico. E quindi è chiaro e evidente che io cercherò in tutti i modi, questo sì lo posso garantire, che il mio peso specifico sia sproporzionato rispetto alla proporzione numerica e quindi mi metta nelle condizioni di poter invece attuare quelle politiche che vanno a beneficio del nostro territorio. Quindi se poi per far questo sarà necessario andare in giunta o fare il Consigliere regionale in un determinato modo e se nel caso fossi e decidesse il Presidente Fontana di Chiesertori deve andare in giunta, quali saranno le deleghe, insomma è tutto relativo. La cosa importante è mettersi nelle condizioni di poter fare e far bene per la provincia di Sondrio. C'è un po' questo mantra dell'assessorato alla montagna, ma ce lo dobbiamo anche dire. L'assessorato alla montagna è chiaro che quando Maroni ha detto questa notizia si è, peraltro esplicitando anche la volontà di dare questo assessorato alla montagna all'allora sottosegretario della montagna Ugo Parolo. Essendo il nostro un territorio interamente montano, indipendentemente dal numero dei voti e dal peso del numero dei voti dei consiglieri, sembrava implicito che questo assessorato dovesse andare a qualcuno della provincia di Sondrio. Ciò detto, oggi le condizioni politiche sono molto diverse. Io quello che posso garantire è che cercherò di mettermi nelle condizioni di poter lavorare al meglio per la provincia di Sondrio, questo sì. Cosa le piacerebbe fare? Di cosa le piacerebbe occuparsi? Beh, diciamo così che le mie attitudini personali sono su più campi. Io sono stato presidente della provincia, sono responsabile federale degli enti locali, quindi conosco bene l'ambito istituzionale, ma il mio lavoro è di… io faccio l'imprenditore, quindi l'impresa piuttosto che attività che sono relative all'impresa. Io credo che ognuno di noi deve fare quello per il quale è portato e per le attitudini che ha. Quindi insomma, ma ripeto, è prematuro parlare di queste cose, saranno oggetto di discussioni, di confronti sia all'interno del partito, ma soprattutto anche con il presidente Fontana. Sarà comunque una scelta scientifica perché si baserà sui numeri? Saranno scelte condivise, quali che siano saranno sicuramente scelte condivise, soprattutto dopo un confronto leale, corretto, che ti racconto di tutti gli aspetti. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella sua conferenza stampa ha detto tra le mie prime azioni sicuramente asili, nido, gratis per più famiglie, un rapporto più semplice tra cittadini e amministrazione. Sì, ho letto queste dichiarazioni e mi fanno molto piacere perché, ripeto e ribadisco, sono assolutamente coerenti con quello che, non solo con quello che abbiamo detto durante la campagna elettorale, ma con quello che sono anni che stiamo dicendo e in particolare Matteo Salvini sta dicendo, perché ad esempio aiutare per quanto riguarda gli asili nido è assolutamente fondamentale perché rispetto al decremento demografico che c'è in Italia, bisogna attuare tutte quelle politiche che in qualche modo fanno invece invertire il trend, quindi andare verso un incremento demografico. Noi possiamo fare tutte le politiche economiche che vogliamo, ma se non facciamo crescere la popolazione, se non mettiamo nelle condizioni i nostri giovani di aver voglia di fare figli, probabilmente qualsiasi tipo di politica economica è destinata a fallire. Sto pensando al fatto, ad esempio, quando si parla di pensioni, ne abbiamo parlato molto, ad esempio durante la campagna elettorale e non solo, che ahimè le pensioni, se non c'è un incremento demografico, se non ci sono nuove nascite, se non ci sono giovani che si approcciano e che lavorano e che quindi pagano i contributi, finisce che arriveremo a un punto di rottura dove non ci saranno più neppure i soldi per pagare le pensioni, quindi questo è un aspetto fondamentale, per cui l'affermazione che ha fatto Attilio Fontana va a connotarsi rispetto a una visione politica che traguarda peraltro 10 anni, 15 anni, che non si limita quindi al giorno dopo, ma è una visione assolutamente strategica, per cui assolutamente condivisibile. Con i tagli portati dal precedente governo e dalla legge del Rio, che cosa si potrà fare? Allora, io ho contrastato quando ero Presidente della provincia in tutti i modi la legge del Rio e sono stato un facile profeta rispetto a quello che sarebbe successo con questa legge che in questo momento peraltro è incostituzionale, andrà sostituita, bisognerà abolirla, abrogarla, cancellarla e farne un'altra, perché la legge del Rio era una legge fatta in attesa della riforma costituzionale che poi il referendum mi ha bocciato, per cui era stata lì appesa, ma nonostante questo è riuscita a fare dei danni incredibili, basta pensare alla nostra provincia, io faccio sempre questo esempio, quando io ero Presidente della provincia, in provincia di Sonio c'erano 5 dirigenti, oggi ce n'è uno, c'è un dirigente che è responsabile economico che si deve occupare di tutti i settori, perché poi la provincia non è stata abolita, c'è, esiste, solo che non ha più un Presidente eletto, quindi scelto dai cittadini, ma un Presidente che esce da un'elezione di secondo grado, quindi decisa dai sindaci, con tutto quello che questo comporta, ma certamente uno degli effetti è che il Presidente per quanto si possa impegnare non può avere l'autorevolezza di colui quale è stato eletto e quindi scelto dai cittadini, per cui c'è un problema di rappresentanza e combinato e disposto tra una legge del Rio che ci ha consegnato un ente quindi che è lì quasi come un pugile picchiato, stordito e un susseguirsi di finanziari e folli che hanno di fatto sottratto i tributi provinciali che la gente in provincia, che anche qui i cittadini della provincia di Sonio pagano la provincia per i tanti servizi che la provincia deve erogare, faccio l'esempio delle città provinciali e quindi la loro manutenzione, io proprio oggi per venire a Livigno ho percorso la tangenziale di Bormio e ho visto in che condizioni è la tangenziale in particolare da Oga salendo, ebbene la provincia ha soldi che sono sempre più limitati perché i tributi provinciali che i cittadini della provincia di Sonio pagano per mantenere le strade provinciali e per mantenere le scuole superiori che sono tutte di proprietà della provincia, che quindi le deve riscaldare, mantenere eccetera eccetera, attraverso le finanziarie questi soldi non vengono più lasciati in provincia ma sono stati presi a Roma, che vanno in questo buco nero, non si capisce poi dove vanno a finire. Io ho un concetto delle autonomie locali che è esattamente l'opposto, la maggior parte delle risorse e dei soldi pagati dai cittadini devono restare sui territori per coprirle tante esigenze che ci sono sui territori e poi residualmente invece devono andare dei soldi allo Stato centrale che dovrà occuparsi di qualche funzione, ma soprattutto sto pensando alle funzioni politica estera, politica della difesa, funzioni che sono effettivamente di tutta la nazione, ma tutto quello che può essere fatto a livello territoriale deve essere fatto a livello territoriale, questo vale anche per la regione, io l'ho detto durante tutta la campagna elettorale e sono molto contento che il prossimo, il presidente della regione Lombardia sia Tillo Fontana, cioè un ex amministratore che ha fatto il sindaco ma che quando io ero presidente delle province Lombarde lui era presidente dell'Anci, cioè dei comuni Lombardi e che la pensa esattamente come me, ovvero che la regione deve programmare e deve controllare e deve legiferare, punto, chi amministra sono i comuni e le province, quindi non ci devono essere invasioni di campo su tutti i vari livelli e io credo che da questo punto di vista si debba fare un po' di ordine perché la legge del Rio ha fatto un gran disordine, ha fatto un gran caos. Maggiori costi e maggiori inefficienza? Questo è quello che è avvenuto, ripeto, io questo lo dicevo quando ero in itinere la legge del Rio e ho fatto insieme a tutti i cittadini della provincia di Sonno, penso alla raccolta firme, tutte le battaglie a che questo non avvenisse. Sono passati tre anni, purtroppo tutto quello che abbiamo denunciato tre o quattro anni fa si è avverato. Ecco, ovviamente adesso forse sarà anche più facile perché il rapporto tra regione e Stato, visto il risultato elettorale, visto il risultato di Salvini, potrà essere forse garantito, ma torniamo ai temi cruciali. Abbiamo parlato di asili nido, abbiamo parlato di sburocratizzare e velocizzare quelli che sono i rapporti tra le istituzioni e i cittadini, ma quali altri bisogni ha il nostro territorio? Per esempio, ricordo in campagna elettorale, Gori ha parlato tantissimo del tema dei trasporti, un tema... Sì, il tema dei trasporti a me è molto caro, anche qui Gori ha parlato tantissimo del tema dei trasporti, ma ho omesso di dire un po' di cose che comunque si legano, poi magari lo diciamo, al concetto di autonomia che intendiamo noi e che è un po' la madre di tutte le battaglie perché è quella battaglia che può sistemare veramente tantissime cose, compreso il settore dei trasporti. Ad esempio, per quanto riguarda il trasporto su ferro, quindi i treni, è giusto dire che Ferrovie Nord è una società partecipata al 50% dalla regione Lombardia e al 50% della ferrovia italiana, quindi dello Stato sostanzialmente, e si occupa solo del materiale rotabile, cioè dei treni in buona sostanza. Non dei servizi. Non dei servizi perché la rete è di proprietà invece della ferrovia italiana. Allora, la stragrande maggioranza dei problemi che noi abbiamo sono sulla rete che spesso e volentieri interrompe il servizio. E vabbè, questa è una questione non banale ma che poi magari successivamente affronteremo. Per quanto riguarda invece il materiale rotabile, posto che alcuni treni nuovi, pochi, non sufficienti, sono arrivati, ma la regione Lombardia ha investito un miliardo e sette su nuovi treni. Ma qui non arrivano? No, un miliardo e sette su nuovi treni che da quando li ordina, quando li costruiscono e arrivano passano normalmente tre anni, quindi se va bene arriveranno fra un anno e mezzo, ma il vero tema qual è? A parte che dovremo sopportare l'attuale situazione purtroppo ancora per un anno e mezzo, perché? Ma il vero problema è che una società partecipata al 50% della regione, al 50% dello Stato, la regione ha messo un miliardo e sette per comprare i treni e lo Stato, sai quanto ha messo? Zero. Quindi questo è il problema cardine. E quando noi parliamo di autonomia, quando noi diciamo che c'è una situazione che non è più sostenibile, intendiamo proprio questo. Poi possiamo andare a vedere tutte le declinazioni in tutti i settori, cioè non è più possibile che Regione Lombardia ha un residuo fiscale di 54 miliardi all'anno, cioè un miliardo alla settimana, ovvero sia significa che i cittadini lombardi pagano tributi che vanno a Roma e che Roma non restituisce più sotto forma di servizi, che hanno una differenza di un miliardo alla settimana. Per cui è chiaro e evidente che la nostra madre... Cambierebbe radicalmente. Cambierebbe radicalmente, non saremmo più... Lo scenario. Lo scenario. Quindi quello che noi abbiamo chiesto con grande forza, ma noi intendo proprio i cittadini lombardi, in questo caso anche Veneti, con il referendum, hanno chiesto maggiori forme di autonomia. Noi intendiamo proprio questo. Noi chiediamo allo Stato centrale, quindi a Roma, di lasciare le competenze e quindi soldi relativi a queste competenze alla Regione, perché abbiamo dimostrato di saper fare le cose bene, certamente meglio rispetto a quelle che ha fatto lo Stato centrale fino ad ora, e quindi abbiamo la maturità, la capacità istituzionale e politica per poter gestire queste situazioni. L'importante è che ci lasciano le risorse per poterlo fare. E siamo assolutamente convinti, e questo l'abbiamo certificato in mille relazioni, che a parità di servizio addirittura riusciamo a ridurre i costi. Cioè se i servizi e i soldi per erogare questi servizi vengono gestiti dalla Regione Lombardia e non dallo Stato centrale, non solo aumentiamo l'efficienza e la qualità dei servizi, ma addirittura li facciamo costare di meno. È per questo che noi diciamo che la madre di tutte le battaglie è l'autonomia. E devo dire che oggi, con il risultato politico che c'è stato in Lombardia, che ha dato una forza enorme ad Attidio Fontana e alla Lega, e al centro-destra, perché avremo una forte stabilità in Regione Lombardia, e con milioni di cittadini lombardi che hanno votato questo referendum, abbiamo tutte le carte in regola per trattare con Roma e finalmente trattenere risorse, funzioni in Lombardia. E quindi questo poi dovrà essere declinato anche a livello locale. Ecco perché è importante che anche a livello locale ci sia una sintesi politica, io aggiungo anche istituzionale, che deve partire dai sindaci. E' stato amministratore, sa quali difficoltà i sindaci incontrano ogni giorno? Perché una volta che noi porteremo a casa un risultato e lo porteremo a casa, ci siamo dati questi cinque anni, ma lo porteremo a casa, con maggiori forme di autonomia e di risorse per la Regione Lombardia, tutto questo poi deve essere declinato a livello locale. E allora dobbiamo fare una nuova legge che vada oltre la del Rio e dare ancora forza alla provincia, che purtroppo oggi così com'è non ha più questa forza. Ma nel frattempo, io questo l'ho detto durante tutta la campagna elettorale, dobbiamo assolutamente mettere in rete i sindaci, perché oggi sono le persone che possono mutuare quel vuoto di potere che in provincia, anche in provincia di Sondio, è nato proprio con l'azzoppare la provincia. Per cui io l'ho detto e lo ripeto e lo ribadisco adesso, io farò il consigliere regionale, vedremo se farò anche dell'altro, ma una cosa è certa, io lavorerò per tutto il territorio della provincia di Sondio, cercherò di costruire dei rapporti a una rete tra i sindaci, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, perché credo che è un sindaco che deve rispondere principalmente alla necessità dei suoi cittadini che l'hanno eletto, del suo paese, del suo campanile, sì è vero, ma il sindaco ha anche un dovere istituzionale, ovvero nei progetti strategici che riguardano tutta la provincia deve essere unito e deve fare sintesi. Le comunità montane dicono un po' il contrario, quindi bisognerà lavorare su questo, perché vi sono ancora delle divisioni. Beh, bisogna andare oltre queste cose, io sono assolutamente convinto che gli amministratori sono vocati a lavorare per i cittadini, altrimenti non farebbero gli amministratori, il lavoro del sindaco oggi è un lavoro difficilissimo, sono sempre di più le richieste e le necessità dei cittadini e loro sono dei soldati senza armi, perché spesso e volentieri non hanno i soldi e non hanno neanche la forza, le capacità, le competenze per poter soddisfare queste necessità, questi bisogni. Per cui io parto dall'assunto che un sindaco, se fa il sindaco è perché con spirito del volontario, vuole aiutare la propria gente e quindi questo mi basta, questo che è un elemento secondo me fondamentale, mi basta. Bisogna però far parlare i sindaci tra di loro e far capire che ci sono dei progetti strategici che creano sviluppo a tutto il territorio, che vanno oltre il proprio campanile o il proprio comprensorio e che comunque li deve vedere responsabili, per cui la mia funzione sarà quella di coordinare tutto questo, ma i sindaci, ma sono certo di questo, perché ho parlato con molti di loro, ripeto, non solo della mia area politica, di qualsiasi area politica, ma sono certo che potremmo fare un lavoro assolutamente straordinario assieme. Aggiungo, aggiungo, così almeno facciamo anche una piccola nota polemica, io credo che in questi 3-4 anni da quando la provincia non è più stata elettiva, ahimè i sindaci presi dalle tante necessità del proprio campanile si sono forse occupati un po' meno di questa situazione provinciale, ma come sempre i vuoti di potere non esistono e io credo che sia una distorsione, che ci siano 3 o 4 furbetti, chiamiamoli così, magari che si dedicano un po' di più ad attività di carattere provinciale, che magari non sono neppure sindaci e che in qualche modo vanno a colmare un vuoto di potere che c'è stato e quindi orientano, diciamo così, il pensiero e le politiche provinciali senza averne titolo. A questo punto non avranno più spazio? Dal mio punto di vista assolutamente no, io sono un convinto e rispettoso delle istituzioni e quindi le istituzioni sono rappresentate dalle persone che sono elette dai cittadini, essendo io un convinto democratico credo che queste politiche debbano essere portate avanti da coloro i quali sono stati eletti. Da chi è stato nominato. I cittadini hanno molto a cuore anche il tema della sanità, di cui abbiamo parlato poco, l'ATS così come è stata ristrutturata, secondo lei risponde ai bisogni della gente, è stata allargata per esempio all'Antolario e è stata in qualche modo rivista. Condivide? Allora, partiamo dall'assunto che l'80% del bilancio della regione Lombardia è dedicato alla sanità. Per quanto riguarda la sanità, i servizi sanitari in provincia di Sondio, quindi in territorio interamente montano, 3200 chilometri quadrati di estensione territoriale con 187 mila abitanti, l'abbiamo detto più volte, dal punto di vista dei servizi è una conformazione che è anti-economica per sua natura. Per cui andava assolutamente... Io faccio un esempio, mi guarda un ospedale e copre un bacino di utenza di circa 800 mila abitanti. In provincia di Sondio abbiamo 183 mila abitanti, ci sono 4 ospedali. Gli ospedali della provincia di Sondio dove lavorano circa 3 mila persone. L'azienda sanitaria di Sondio è la prima azienda in termini di numero di dipendenti della provincia di Sondio. Si sono aperti molti dibatti da questo punto di vista e ci sono idee molto diverse a seconda dei territori. Io ho detto durante la campagna elettorale che non mi sarei espresso su questo settore perché era troppo facilmente strumentalizzabile e un servizio come quello della sanità è talmente delicato che deve essere affrontato senza nessun tipo di strumentalizzazione. Ho detto e promesso che questo sarà un settore del quale me ne occuperò e lo ribadisco e lo confermo anche in questa circostanza. Non è facile, sicuramente ci sono dei problemi. Io durante questo mese ho voluto confrontarmi con tante persone, ad esempio medici, infermieri ma anche cittadini, proprio anche per quanto riguarda il settore della sanità. Ho un'idea generale di com'è la situazione. Certamente non è una questione che si risolve con uno slogan o con facili soluzioni perché è molto complessa. Lo dico chiaramente, dal punto di vista politico se volessi fare un calcolo tattico l'ultima cosa della quale mi dovrei occupare è la sanità. Perché quale soluzione tu trovi sicuramente non accontenterà tutti e quindi sarà un problema. Detto questo però io sono un valtellinese molto legato alla mia terra e sapendo che questo è un servizio molto delicato bisognerà assolutamente che ci si guardi e si affronti questa questione ed è mia intenzione farlo. Lo farò però con i dovuti modi che non sono quelli andando sui giornali o facendo questo o quel comitato che possono essere tutti legittimi e possono avere tutti ragione però sono questioni anche che si incrociano con delle vicende spesso anche tecniche molto difficili con delle visioni molto diverse una all'altra. Per cui ripeto, io ribadisco il mio impegno su questo settore ma sono ancora nella fase di raccolta di opinioni e credo che poi una volta che ci sono tutte le condizioni bisognerà aprire un confronto serrato, serio coinvolgendo tutti i territori e ancora una volta coinvolgendo anche ovviamente i rappresentanti istituzionali ma non dimenticando che c'è una componente tecnica che è fondamentale. Quindi sarà un tema che affronteremo in provincia di Sondrio in modo importante. Siamo in Alta Valle, siamo a Livigno dove spesso alcune tematiche sono state affrontate con conflitto. Lo sviluppo a volte è vincolato dalla tutela per l'ambiente. Da questo punto di vista che cosa si potrà fare? Anche perché la precedente governance regionale su queste tematiche spesso si è trovata in conflitto. Quindi territorio e ambiente che cosa si può fare? Sarebbe troppo facile per me dire che io sono per uno sviluppo sostenibile. Come fanno i miei colleghi di sinistra, loro se la cavano così, noi siamo per il sviluppo sostenibile. Vuol dire tutto, vuol dire niente. Anzi, vuol dire tante cose, però insomma diciamo che i problemi non si affrontano solo con delle belle frasi. Poi bisogna metterci mano e cercare di risolvere. È indubbio che l'Alta Valle è una delle zone sulle quali insistono il maggior numero di vincoli regionali, provinciali, nazionali. C'è dietro una storia, sappiamo bene, le zone SIC. E' inutile fare la storia che la conosciamo bene. E' indubbio che in Alta Valle ci sia una vocazione turistica molto importante, molto forte e che dà lavoro a tantissime persone, è l'attività diciamo così prevalente. E' indubbio che l'Alta Valle, la Valtellina in generale, ma in particolare l'Alta Valle, io faccio sempre una battuta, molta gente viene a trovarci sicuramente perché siamo simpatici noi della Valtellina, ma temo che sia anche perché abbiamo un territorio che è bellissimo. Per cui è chiaro che un territorio bellissimo che è la nostra attrazione principale non può essere saccheggiato o massacrato, altrimenti perderemmo l'attrattiva stessa. Però bisogna avere anche l'intelligenza di capire che poi ci sono delle attività che devono essere sviluppate su questi territori e dei servizi che devono essere dati a chi viene a trovarci, che certamente perché viene a trovarci, qui siamo a Livigno, vengono a trovarci perché Livigno è bellissima, ma anche perché a Livigno c'è la possibilità di sciare, per sciare ovviamente ci vogliono gli impianti di risalita, e gli impianti di risalita non possiamo lasciare quelli che c'erano negli anni 80, ma devono essere ammodernati, e quindi bisogna cercare di conciliare, di rendere compatibile quello che è il preservare un territorio, che è certamente il nostro aspetto principale e la trattativa migliore, ma ovviamente in una chiave moderna, dando dei servizi e ovviamente essendo concorrenti anche, peraltro, con territori magari anche noi vicini, che hanno enormi possibilità maggiori rispetto alle nostre. e qui non voglio scomodare ancora la parola autonomia e tutto il resto, però oggi la situazione è questa, io credo che ci siano dei vincoli eccessivi, credo che su questo bisognerà lavorarci, spesso e volentieri noi siamo asfissiati da una burocrazia dalla quale a volte non capiamo la logica e dai vincoli che a volte sono secondo me assurdi, su questo bisognerà lavorare e lavorare molto, ripeto, quindi rispetto del territorio e dell'ambiente che sono sicuramente il brand e l'aspetto fondamentale dei nostri territori, ma con uno sviluppo che deve essere a passo dei tempi e che vincoli a volte, lasciatemi usare il termine, idioti, in qualche modo bloccano e quindi non ci fanno essere neppure concorrenti con altre situazioni, anzi addirittura a volte mi pare di vivere delle concorrenze sleali, perché da qualche parte si possono fare determinate cose, da altre parti magari neanche a troppi chilometri da noi invece si possono fare e quindi abbiamo delle situazioni veramente di concorrenza sleale. Credo che su questo si debba lavorare molto. Sono stati fatti, secondo me, degli errori in passato e so che sono situazioni non facili, però credo che si debba lavorare per cercare di appianare queste differenze. Secondo lei, guardando ora al Paese, quali scenari si prefigurano per la gestione del governo? Un governo tecnico, un governo invece dove la coalizione del centrodestra dovrà parlare con il primo partito? Che cosa potrà accadere? Quella è la sua personale visione. Dunque, la situazione è molto complessa perché è chiaro e evidente che con questa legge elettorale e con l'esito elettorale che c'è stato, oggi non c'è una maggioranza alla Camera e al Senato da parte di una compagine o di un'alleanza piuttosto che di un partito. Anche se, devo dire, che in situazioni così complesse, così complicate, secondo me è di buon senso tornare all'origine, cioè a quello che è il volere, la volontà del cittadino. E mi pare di poter dire che il cittadino si sia espresso in modo abbastanza chiaro. Perché dico questo? Perché nelle ultime ore vedo che si parla di un possibile incarico a Di Maio perché il 5 Stelle è risultato essere il primo partito e quindi ha una possibilità dove il PD appoggerebbe un governo del 5 Stelle, perlomeno queste sono tra le varie ipotesi. Di fantapolitica. Di fantapolitica. Ecco, un'ipotesi di fantapolitica come questa, quindi di un'alleanza 5 Stelle-Partito Democratico, sarebbe, è chiaro e evidente, una netta contraddizione rispetto alla manifestazione della volontà dei cittadini. Per cui, nonostante la cosa sia abbastanza intricata e complicata, ecco, io se posso dare un consiglio, chi che sia, di fronte a una situazione così confusa, quantomeno cerchiamo di rispettare quello che è la volontà del cittadino. Escuso, quindi un'asse Salvini Di Maio? No, io questo non, Salvini è il segretario federale della Lega e quindi queste sono scelte che non competono a me. Mi pare che nella conferenza stampa che Salvini ha fatto all'indomani delle elezioni abbia detto questo. Però, ripeto, queste sono scelte nazionali, io ho piena e totale fiducia nei confronti di Salvini e sarà lui a deciderlo. Mi limito a dire che bisogna cercare in qualche modo, in una situazione così complessa, di trovare una soluzione che comunque rispetti il volere dei cittadini. Però la responsabilità dei partiti qual è? È di garantire un governo al Paese oppure di rispettare la volontà dei cittadini? Perché comunque... Garantire un governo del Paese rispettando la volontà dei cittadini. Per cui dovrà essere per forza un governo tecnico? Ma no, non necessariamente perché io non sto pensando a un governo tecnico, sto pensando ad esempio che per quanto riguarda il centrodestra, siccome la legge elettorale prevedeva la formazione di coalizioni, e il centrodestra ha deciso di andare alle elezioni in coalizione, e mi risulta che la coalizione che ha preso più voti sia appunto il centrodestra, che ha preso il 37%. Poi certo il 5 Stelle è il partito più votato, il partito più votato, che ha preso il 32% per cui intanto bisognerà vedere il Quirinale e quindi Mattarella che cosa farà, il Presidente della Repubblica cosa farà, se deciderà di dare l'incarico al leader della coalizione che ha preso più voti, ovvero Mattio Salvini, o se deciderà di dare l'incarico al leader del partito più votato. Immagino che il Presidente della Repubblica, visto che avrà nel suo ruolo quello di fare in modo che un governo si formi, cercherà, o comunque darà un incarico e cercherà di fare in modo che ci sia una maggioranza sia alla Camera che al Senato, e quindi probabilmente darà spazio al leader che in qualche modo è più nelle possibilità di creare questa situazione. Ha avuto modo di parlare con il Segretario Salvini? Con il Segretario Salvini abbiamo avuto modo di parlare, sì. Cosa le ha detto? Beh, è soddisfatto, assolutamente soddisfatto, sia di come sono andate le elezioni a livello nazionale, sia di come sono andate a livello regionale, e anche, devo dire, con una certa soddisfazione, di come sono andate le elezioni a livello provinciale. Ha parlato anche con Attilio Fontana, ovviamente? Sì, con Attilio Fontana ho parlato, ovviamente molto soddisfatto anche lui, e devo dire che il risultato che ha avuto Attilio Fontana, che ha dato 20 punti a Gori, è al di sopra addirittura dalle nostre attese, più rose e aspettative, certo. D'altra parte basta guardare i voti ottenuti in ogni singolo comune, in provincia di Sondrio vi sono stati comuni, non so se vuole citarne qualcuno dove avete avuto… In provincia di Sondrio sono molti comuni dove la Lega ha sorpassato addirittura il 50%, mi viene in mente ovviamente il mio comune, Ponte Valtellina, ma il comune vicino a Chiuro, mi viene in mente Samolaco, Villa di Chiavenna, Buglio in Monte, insomma sono molti comuni dove addirittura abbiamo passato il 55%, il 60% e quindi è chiaro che, ripeto, come ho detto all'inizio di questa intervista, grande soddisfazione ma anche grande responsabilità. Quando andrà a Milano? Quando si incontrerà con il Consiglio? Con tutti i consiglieri e il Presidente? In realtà io a Milano ci andrò domani, anche dopodomani, ma per lavoro, così come ieri sono andato a Torino, per adesso ci siamo sentiti al telefono, siamo ancora nella fase post-elettorale, quindi ho visto per la prima volta un'ora fa i dati dei singoli comuni in provincia di Sondrio, quindi siamo ancora nella fase in cui stiamo rimettendo insieme un po' tutte le cose, ma sicuramente la prossima settimana avremo modo di trovarci e di cominciare a intraprendere tutte le discussioni che sono necessarie. Ha trovato il tempo di festeggiare? Dico la verità, abbiamo festeggiato la sera dello spoglio insieme a un gruppo di amici assolutamente straordinari, insieme ovviamente alla mia famiglia e a un gruppo di amici straordinari che mi hanno accompagnato durante tutta questa campagna elettorale, insieme ovviamente anche a Ugo Parolo, che vogliamo ricordarlo, è stato eletto parlamentare, anche lui con un risultato personale molto importante, però insomma poi la mattina dopo sono partito alle 6 del mattino alla volta di Torino a lavorare come siamo soliti fare noi vertellinesi, abbiamo fatto la festa, poi però lavoriamo insomma e non vedo l'ora di mettermi all'opera e di lavorare anche in Regione Lombardia e di affrontare i tanti dossier che ci sono sul tavolo e di cercare di trovare le soluzioni migliori. Per concludere, Sertori, possiamo dire che la Valtellina sarà finalmente ben rappresentata in Regione ma anche al Governo? Certo, non ci sarà nessuno al Senato ma alla Camera? Sì, vabbè, alla Camera ci sarà Ugo Parolo sicuramente che è stato eletto deputato, adesso vediamo come saranno le evoluzioni rispetto a come si formerà il Governo, dico a livello nazionale, è tutto in itiner, ovviamente nessuno di noi in questo momento sa esattamente cosa succederà. Devo dire, la Valtellina è in una botte di ferro perché è ben rappresentata con lei in Regione e al Governo con ben due rappresentanti alla Camera che... Sì, guardi, io spero di sì, ovviamente spero di meritare sia io che i miei colleghi di partito la fiducia che ci hanno conferito e anche la forza, devo dire, che ci hanno conferito i cittadini vertellinesi e valchiavannaschi con il loro voto. Devo dire che io personalmente sono anche un po' frastornato perché penso di conoscere personalmente almeno un centinaio di parlamentari, di nuovi parlamentari, infatti il mio telefono continua a squillare. E quindi il filo diretto sarà garantito? Ma questa volta devo dire di sì, questa volta devo dire proprio di sì. Quindi parlamentari ma anche consiglieri regionali, insomma, con una Lega così forte, con tanti colleghi e amici, lasciatemi dire, di partito, che hanno assunto e assumeranno posizioni sia al Parlamento, sia spero a un eventuale governo, ma anche in Regione. Mi sembra di poter dire che la Valtellina questa volta sarà rappresentata in modo forte. Grazie, Sertori. Grazie a voi. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.